il piccolo angelo ci guarda quasi nascosto è triste mentre indica il foro del chiodo che ha lasciato un ematoma sul piede spostiamo ora lo sguardo sull'intreccio di mani abbandonate quelle del cristo amorevoli quelle di maria e dell'angelo bambino la donna sostiene la testa dell'uomo con la mano e con le ginocchia la spalla dell'uomo è scomposta il suo corpo è disarticolato come quello di una bambola è il corpo di un uomo morto con la pelle gialla sotto cui il sangue non scorre più a contrasto con quella rosea della donna e dei due bambini non è facile distogliere gli occhi da questo corpo appagliante un corpo che ha smesso di soffrire steso su un lenzuolo bianco che annuncia la speranza della risurrezione pietà copia coeva da annibale carracci dopo il 1600 galleria doria panfili roma